Il Milan perde su rimonta all'esordio in questa nuova Champions League contro un Liverpool sicuramente che ha reagito benissimo a un Milan poco coraggioso. Un Milan che era passato in vantaggio dopo pochissimo tempo nel segno di Pulisic che poi però si è fatto rimontare su due gol di testa su calcio d'angolo prima di Konaté che aveva fatto un grande salto e poi un furbo Van Dijk che è riuscito appunto a ritagliarsi lo spazio per buttarle in porta sul 2-1. E poi un gol di Sobosela è arrivato sul secondo tempo su una difesa inesistente solo Pavlic è l'unico che ci prova in difesa ma è un Milan che prova veramente molto poco. È un Milan che appena va in difficoltà, appena va sotto nel punteggio è un Milan che si perde subito d'animo. È un Milan che vediamo dai tempi dello Scudetto che ormai è un Milan così prima con Pioli e adesso anche con Fonseca. Cambia l'allenatore ma la solfa non cambia, è un Milan poco coraggioso con tantissima paura e poco animo e attaccamento ai colori. Abraham è entrato in partita veramente molto bene, ci ha provato fino alla fine e ha incitato i suoi compagni che però appunto non si sono fatti tirare su dall'attaccante inglese che ha comunque mostrato ottimo carisma però il Milan mostra appunto bruttissimi segnali continui con il Venezia che appunto è stata una piccola parentesi contro la squadra sicuramente non all'altezza. Inoltre Milan ha perso anche Maignan che dopo essersi fatto male nel primo tempo ha retto ed è entrato nel secondo tempo ma poi per un contrasto contro un inguardabile Tomori è uscito dal campo, è esordito Torriani. Cosa ne pensate di questo Milan sempre più orribile? Ditemi la vostra.